Vladimir Luxury ha un fiume in piena quando perdo le staffe all'isola. Isola dei famosi, opinionista rompe il silenzio quando perdo le staffe la borsa gira. Continua a regalare sorprese il programma condotto da Ilarai Blasi che ieri sera avvista l'addio definitivo di Clemente Russo. Che ha seguito a ruota l'uscita della moglie, e le nomination di Mercedes Zenger e Nicolas Vaporidis, mentre Blind è traghettato su Playa Sgamada. A rompere il silenzio sulle pagine di TV sorrisi e canzoni è stata Vladimir Luxurya che, in coppia con Nicola Savino, anima le dinamiche del reality. Sempre pronta a esporsi e criticare i protagonisti di turno, l'opinionista ha ammesso di avere una sorta di rituale quando perde la pazienza. È passato di certo inosservato al pubblico dell'ammiraglia Mediaset e di non poter rinunciare alla sua borsa impuntata. Serve per farla ruotare quando perdo le staffe. Questo lo sfogo dell'artista che ha poi raccontato un retroscena inaspettato, sottolineando. Di settimana facciamo prima la prova della borsa, se non gira bene la modifichiamo o cambiamo il manico. Per Luxurya svela un retroscena quello è stato un omaggio a tutte le donne scaricate. Oltre ad aggiungere Pepe all'isola dei famosi con le sue osservazioni sempre attentissime, che l'hanno portata a scontrarsi con Laura ieri. L'opinionista incanta di puntata in puntata il pubblico di Canale 5 con i suoi look ispirati alle grandi donne del mondo dello spettacolo e non solo. Uno in particolare è stato molto amato quello della Bond Girl. Per sembrare un abito da fiaba invece il richiamo è 007 Missione Goldfinger e alle Bond Girl, che vengono sempre lasciate. Insomma, un omaggio a tutte le donne scaricate quello dell'opinionista del reality che in puntata ama indossare anche cerchietti, in onore della madre, definita la deva delle dive. Soprattutto la dei famosi, opinionista pronta a fare una sorpresa ai naufraghi? Esplorerei da vicino le dinamiche. Non ha dubbi Vladimir Luxurya se dovesse sbarcare in Honduras per fare una sorpresa ai naufraghi vestirebbe come Angelina Jolie in Tomb Raider. Però, a differenza dell'attrice, non andrebbe affatto a caccia di tesori, ma metterebbe sotto torchio i naufraghi. Esplorerei da vicino le dinamiche ammesso. Nelle prossime puntate del reality di Canale 5 e l'opinionista in serbo altre sorprese stiamo lavorando a Mara Ilin Monroe. Tanto l'appuntamento con la nuova puntata del reality è per venerdì 20 maggio a partire dalle 21 e 25, e Luxurya è pronta a smascherare ancora intrighi e strategie con il suo piglio inconfondibile e disarmante ironia. La diola dei famosi, opinionista rompe il silenzio quando perdo le staffe e la borsa gira. Continua a regalare sorprese il programma condotto da Ilarai Blassi che ieri sera avvista l'addio definitivo di Clemente Russo. Seguito a ruota l'uscita della moglie, e le nomination di Mercedes Zenger e Nicola Svaporidis, mentre Blind è traghettato su Playa Sgamada. Per il silenzio sulle pagine di TV sorrisi e canzoni è stata Vladimir Luxurya che, in coppia con Nicola Savino, anima le dinamiche del reality. Sempre pronta a esporsi e criticare i protagonisti di turno, l'opinionista ha ammesso di avere una sorta di rituale quando perde la pazienza. Non è passato di certo inosservato al pubblico dell'ammiraglia Mediaset e di non poter rinunciare alla sua borsa impuntata. Mi serve per farla ruotare quando perdo le staffe. Questo lo sfogo dell'artista che ha poi raccontato un retroscena inaspettato, sottolineando. Ogni settimana facciamo prima la prova della borsa, se non gira bene la modifichiamo o cambiamo il manico. Vladimir Luxurya svela un retroscena quello è stato un omaggio a tutte le donne scaricate. Oltre ad aggiungere Pepe all'isola dei famosi con le sue osservazioni sempre attentissime, che l'hanno portata a scontrarsi con Laura ieri. L'opinionista incanta di puntata in puntata il pubblico di Canale 5 con i suoi look ispirati alle grandi donne del mondo dello spettacolo e non solo. In particolare è stato molto amato quello della Bond Girl. Può sembrare un abito da fiaba e invece il richiamo è 007 Missione Goldfinger alle Bond Girl, che vengono sempre lasciate. Insomma, un omaggio a tutte le donne scaricate quello dell'opinionista del reality che in puntata ama indossare anche cerchietti, in onore della madre, definita la deva delle dive. Isola dei famosi, opinionista pronta a fare una sorpresa ai naufraghi? Esplorerei da vicino le dinamiche. A dubbi Vladimir Luxurya se dovesse sbarcare in Honduras per fare una sorpresa ai naufraghi vestirebbe come Angelina Jolie in Tomb Raider. Però, a differenza dell'attrice, non andrebbe affatto a caccia di tesori, ma metterebbe sotto torchio i naufraghi. Colorerei da vicino le dinamiche ammesso. Le prossime puntate del reality di Canale 5 e l'opinionista in serbo altre sorprese stiamo lavorando a Mara Ilin Monroe. Intanto l'appuntamento con la nuova puntata del reality è per venerdì 20 maggio a partire dalle 21 e 25, e Luxurya è pronta a smascherare ancora intrighi e strategie con il suo piglio inconfondibile e disarmante ironia. Isola dei famosi, opinionista rompe il silenzio quando perdo le staffe e la borsa gira. Continua a regalare sorprese il programma condotto da Ilarai Blasi che ieri sera avvista l'addio definitivo di Clemente Russo. Che ha seguito a ruota l'uscita della moglie, e le nomination di Mercedes Zenger e Nicola Svaporidis, mentre Blind è traghettato su Playa Sgamada. Per il silenzio sulle pagine di TV sorrisi e canzoni è stata Vladimir Luxurya che, in coppia con Nicola Savino, anima le dinamiche del reality. Sempre pronta a esporsi e criticare i protagonisti di turno, l'opinionista ha ammesso di avere una sorta di rituale quando perde la pazienza. Non è passato di certo inosservato al pubblico dell'ammiraglia Mediaset e di non poter rinunciare alla sua borsa impuntata. Mi serve per farla ruotare quando perdo le staffe. Questo lo sfogo dell'artista che ha poi raccontato un retroscena inaspettato, sottolineando. La settimana facciamo prima la prova della borsa, se non gira bene la modifichiamo o cambiamo il manico. Vladimir Luxurya svela un retroscena quello è stato un omaggio a tutte le donne scaricate. Tre ad aggiungere Pepe all'isola dei famosi con le sue osservazioni sempre attentissime, che l'hanno portata a scontrarsi con Laura ieri. Opinionista incanta di puntata in puntata il pubblico di Canale 5 con i suoi look ispirati alle grandi donne del mondo dello spettacolo e non solo. Uno in particolare è stato molto amato quello della Bond Girle. Sembrare un abito da fiaba invece il richiamo è 007 Missione Goldfinger e alle Bond Girle, che vengono sempre lasciate. Insomma, un omaggio a tutte le donne scaricate quello dell'opinionista del reality che in puntata ama indossare anche cerchietti, in onore della madre, definita la deva delle dive. L'isola dei famosi, opinionista pronta a fare una sorpresa ai naufraghi? Esplorerei da vicino le dinamiche. Non ha dubbi Vladimir Luxurya se dovesse sbarcare in Honduras per fare una sorpresa ai naufraghi vestirebbe come Angelina Jolie in Tomb Raider. Però, a differenza dell'attrice, non andrebbe affatto a caccia di tesori, ma metterebbe sotto torchio ai naufraghi. Esplorerei da vicino le dinamiche ammesso. L'appuntamento con la nuova puntata del reality è per venerdì 20 maggio a partire dalle 21 e 25, e Luxurya è pronta a smascherare ancora intrighi e strategie con il suo piglio inconfondibile e disarmante ironia. Grazie a tutti.